Ma lei pensa che i 200 sindaci o un Presidente della Gioia devono aspettare questo imbecille che continua a fare provocazioni? Ha sentito la lettera che ha mandato? E allora chiedete che qualcuno venga qui a parlare, se no dovete cavicarci, è chiaro, ci dovete cavicarci. Allora, o la porca valore. Allora, allora, ci dovete uscire. Oh non spingete. Non spingete. Non spingete male. E si sente male una persona?